Si blocca l'iter della superstrada L'Aquila-Matrice. I fondi sono a rischio, una maxiopera che doveva servire per il rilancio delle aree terremotate. Il quinto lotto, che è quello che va da Montereale sino al confine con il Lazio, procedeva spedito con il primo stralcio che era finanziato per 22 milioni di euro dai fondi per i crateri sismici del PNRR. Realizzazioni affidate, autorizzazioni ok, sino a che il Ministero dell'Ambiente con una mossa a sorpresa ha stoppato tutto con un parere negativo. Secondo il decreto il quinto lotto non si poteva dividere stralci, il primo va riunito col secondo che è indietro. Un secondo stralcio che prevede una lunga galleria ancora non progettata, pratica che dunque rischia di dover ripartire con un progetto unico che porterebbe via molto altro tempo, rendendo vani i tempi del cronoprogramma imposto dal PNRR con la perdita dei 22 milioni di euro. Chi non ci sta è il sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi perché la popolazione attende quest'opera da decenni. Il quinto lotto finisce e completa quella che è la parte della 260 dell'Abruzzo, quindi arriviamo al limite regionale con il Lazio. Abbiamo interagito con il Comune di Amatrice, tramite la struttura commissariale si è arrivati ad una pianificazione, ad una copertura finanziaria di tutto questo asse, fino all'innesto di via Salaria. E oggi ci troviamo fermi perché è stato espresso un parere, dopo nove mesi, ripeto, una cosa inaccettabile, che ci dice no, non va bene, i due stralci non vanno bene, vogliamo un progetto unico. Questo ovviamente rimette in discussione tutto perché noi abbiamo delle tempistiche da rispettare, che sono giugno 2026 per l'ultimazione dei lavori, ma è un'opera che serve. Noi non abbiamo tempo da perdere su queste cose e nel merito anche questo parere non è che dà delle giustificazioni di carattere tecnico. Il quinto lotto dovrebbe partire dall'innesto con la strada provinciale 106 per terminare al confine tra Bruzzo e Lazio, coinvolgendo proprio il Comune di Montereale. Il primo stralcio prevede una variante e l'adeguamento di un tratto dell'arteria. Il secondo lotto prevede invece una galleria per attraversare Ringo. L'importo totale dell'apparto è di 93 milioni di euro. Non abbiamo delle riserve particolari sui luoghi interessati dalla 260, quindi non vedo il motivo di questo parere negativo se non veramente una questione di Lana Caprina, veramente i veri burocrati ministeriali. E questo è inaccettabile per una zona come la nostra, che ha subito due terremoti. Facciamo parte delle aree interne, si riempiono la bocca tutti di aree interne, poi quando c'è da dare un aiuto o comunque sia da dare un contributo rispetto a fornire servizi alle aree interne, ci troviamo a competere con dei burocrati che non sanno neanche di cosa stiamo parlando. E questo è inaccettabile. Grazie. Grazie. Grazie.